Ovviamente l'effetto di farse l'aperto è un altro. Oggi appunto sono stata qua in Umbria e ho visto un po' di luoghi belli e mi sono divertita. Sì esatto, sto provando questa nuova vita, per adesso mi piace molto e anche se alcune cose mi mancheranno tanto del mio sport, però creerò sempre nell'ambiente. Attraverso il tuo sport per oggi lancio un messaggio importante, non solo per Terni ma per l'intera regione dopo quello che è accaduto l'anno scorso. Penso che questo ti faccia molto piacere anche a livello personale. No certo, con poco si riesce comunque a dare una mano e l'ho fatto molto volentieri.